Nella serata del 5 gennaio i sindaci di Ascoli e San Benedetto hanno comunicato la ripresa delle lezioni scolastiche lunedì 10 gennaio e non venerdì 7 come da calendario. Decisione dovuta all'aumento notevole dei casi di Covid-19 registrati negli ultimi giorni. Altri 29 sindaci del Piceno, pur condividendo le ragioni del rinvio, hanno chiesto una decisione in merito della regione Marche, ancora non arrivata. Non hanno invece firmato l'appello dei 29 Lucio Porrà, primo cittadino di Montefiore dell'Aso, dove si tornerà a scuola lunedì, e Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche, dove in serata si eseguiranno dei tamponi a tutti gli studenti per un rientro in sicurezza, a meno che non arrivino decisioni regionali diverse. Ascoltiamo i motivi del rinvio dal sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo. Guarda, io mi sono consultato nella giornata di ieri con i medici, poi ho chiamato l'Asur per avere anche dei dati inerenti alla positività, ai positivi che sono su San Benedetto, chi è in quarantena. Insomma, ho cercato di mettere insieme tutta una serie di dati che mi sono poi serviti per poter decidere di tenere chiuse le scuole in presenza per gli studenti, fino al 10 di gennaio. È chiaro che si può fare la lezione in DAD, questo sì. Decisione che è arrivata con un comunicato congiunto a Ascoli, San Benedetto, Spazzafumo o Fioravanti? Sì, in Combarco ci stiamo parlando per tantissime altre cose. Tra l'altro ieri abbiamo anche discusso su questo problema e abbiamo più o meno la stessa visione delle cose da fare, quindi anche lui ha gradito, o meglio ho gradito, il fatto di dover tenere gli studenti fuori dagli istituti per questi due giorni. Sempre sul tema Covid, ha fatto anche un comunicato nei giorni scorsi riguardante l'emergenza che c'è al centro alimentare, nel senso nel centro vaccinale, lunghe code, tra l'altro sabato e domenica si riapre per i non prenotati, ci sono novità in merito? Guarda, io innanzitutto ho cercato di migliorare l'organizzazione all'interno del lab vaccinale, quindi del centro agroalimentare. Qualcosa è stato modificato in questi giorni, io adesso mi dovrò incontrare con Esposito anche per trovare altre soluzioni che possano essere gradite anche all'Asur, perché chiaramente alla fine è l'Asur che decide.